So che hai cercato una cameriera, ora hai portato il curriculum. E guarda, dallo al capo. Ma da dove spunti tu? Non mi avevi detto che eri un uomo sessuale. La prossima volta me lo scrive in fronte. Dal regista di Benvenuto a Presidente, una commedia su come diventare qualcuno. Devi tenere tuo figlio. Fingendo di essere un altro. Vorrei dargli un'immagine rassicurante. Un padre, una compagna. Normalità. Scusate se esisto. Grazie a tutti.